Ottima posizione e grandi obiettivi calcistici quelli del Licata 1931, che dopo aver battuto la Gattopardo con un secco 3-1 serviti da Mustafallo, Lu e Fabrizio Grillo, accede ai quarti di finale della prestigiosa e tanto ambita manifestazione vinta lo scorso anno dal Campobello di Licata, attuale squadra del Licata. Orgoglio da parte dei calciatori gialloblu della famiglia licatese, nonché del tecnico Tommaso Napoli per la scelta da parte della Lega del Dino Liotta come stadio in cui disputare la finale. Intanto, pausa e riposo ieri per i calciatori dopo le fatiche di Coppa Italia, che sta dando i risultati sperati. Adesso si attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che potrebbe anche essere il Valderice, che ha eliminato il Ribera, ma l'obiettivo è comunque quello di conquistare l'intera posta in palio per rimanere agganciati al Due Torri e alle zone nobili della classifica. Ma qualsiasi sia l'avversario un altro appuntamento sul quale concentrarsi in calza, e cioè quello di domenica, in cui la sfida sarà un vero e proprio faccia a faccia con il Castellammare.